Martedì 5 dicembre, dopo più di un anno dall'ormai tristemente nota frana di Letoianni, fissata la data per la conferenza di servizio tra il Consorzio Autostrada e la Protezione Civile per una condivisione dei lavori lungo l'A18. Il direttore generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Calogero Foti, ha infatti indetto presso il suo Dipartimento il tavolo tecnico per l'approvazione del progetto esecutivo per l'eliminazione della frana. Alla conferenza, da tempo sollecitata dal Presidente del Consorzio, Rosario Farraci, sono stati invitati, oltre al Consorzio e dal Comune di Letoianni, anche il Genio Civile, la sovrintendenza ai beni culturali e vari tecnici di settore, per una condivisione delle previsioni progettuali e quindi per improntare i tempi attuativi. Finalmente ci siamo, ha commentato il Presidente del Consorzio, Rosario Farraci. Il Cassa aveva da tempo adempiuto a tutte le sue incombenze, tant'è che abbiamo presentato alla stampa un progetto predisposto dai nostri tecnici che ora sarà discusso al tavolo operativo della Protezione Civile. Una volta definito l'elaborato ed ottenute le autorizzazioni istituzionali, saranno avviate le procedure di gara.